covid al confine con la romagna il maggior numero di casi pari opportunità la ministra bonetti in visita a urbino scuola riviera banca premia gli studenti meritevoli del territorio tutti campioni grandi storie di sport all'hotel eccelsior di pesaro buona sera siete su rossini tv canale 633 l'unica tv con sede a pesaro visibile in tutta la regione marche oggi è martedì 30 novembre apriamo questa edizione facendo il punto sull'attuale quarta ondata della pandemia i contagi infatti restano in crescita ma presentano delle differenze fra aree geografiche in particolare il virus sta trovando più facilità di circolazione nei comuni al confine con la romagna come ci spiega questo primo servizio di edoardo razzi il 58 per cento dei contagi nella provincia di pesaro urbino si sta registrando nei comuni di frontiera fra marche romagna i numeri del servizio sanitario regionale dicono infatti che gabice mare gradare tavuglia sono ad oggi territori in cui il virus circola con meno resistenza non è una novità anche nelle precedenti ondate il nostro distretto vuoi per la vicinanza comunque con la romagna e con il nord ha comunque sempre avuto dei numeri molto alti rispetto anche alle altre diciamo aree della regione marche anche per la vitalità e movimento che caratterizza il punto di vista non solo industriale o lavorativo ma anche culturale e turistico quindi diciamo è giustificabile anche con queste queste circostanze è vero che il dato però che ci deve insomma sul quale dobbiamo focalizzarci è l'occupazione dei posti di letto negli ospedali in terapia intensiva perché sappiamo benissimo che ormai in una quarta ondata la positivizzazione della popolazione può essere anche diciamo continuare a crescere l'importante che non si superi il livello di guardia delle ospedalizzazioni territori di transito di confine ma anche di ridotta propensione alla vaccinazione gabice è infatti la maglia nera provinciale in tal senso con le 66 per cento di popolazione vaccinata il che significa che un gabicese su tre non è immunizzato poco meglio fanno gradare tavuglia con altre percentuali da fondo classifica motivo per cui sabato 4 11 e 18 dicembre torna a riaprirsi il punto vaccinale di prossimità della palestra di gradara a servizio proprio dei cittadini dei tre comuni in questione abbiamo deciso di riaprire il punto vaccinale di gradara che ricordiamo ha stato il primo della provincia di Pesolo Rubino come punto vaccinale di prossimità ad essere aperto assieme al comune di Chedice Mare e di Tavuglia con la collaborazione dell'Asul del distretto numero uno di Pesolo e dei medici di base ha funzionato tantissimo nei mesi estili per una deline in quale abbiamo aperto per la prima volta il punto vaccinale di riaprirlo proprio per cercare di porre rimedio a questa avanzata questo quarto andato con nuovi positivi e dare la possibilità alle persone che vivono nel nostro territorio di vaccinarsi in modo più agevole quindi con un punto sotto casa, con l'infermiere, con il medico di fiducia è anche un modo per cercare di portare a vaccinare anche persone spaventate o dubbiose quindi un grazie di cuore anche all'associazione di volontariato all'Avis Gardara, all'Auser di Gardara, alla protezione civile di Gardara di Chedice Mare che grazie al loro contributo e impegno hanno mantenuto e continueranno per casi tre sabati in programma a mantenere aperto il punto vaccinale di Gardara E da domani, primo dicembre, si apre la campagna di prenotazione per la terza dose di vaccinazione per tutti i cittadini sopra i 18 anni che hanno ricevuto la seconda dose ad almeno 5 mesi di distanza Un altro step che si spera argini contagi anche oggi sostenuti 416 casi in regione di cui 81 in provincia di Pesarurbino con l'incidenza di contagio che sale a 187 casi ogni 100.000 abitanti Altri tre nuovi ricoveri fanno salire a 110 il numero di pazienti in degenza ma resta stabile a 24 unità quello delle terapie intensive Oggi non si sono registrati i decessi Le pari opportunità nascono da luoghi di cultura come l'università Questo il pensiero della ministra Elena Bonetti in visita ieri all'università di Urbino ospitata dal rettore Giorgio Calcagnini Il ministro Bonetti in visita ad Urbino per un momento importante l'università accoglie questa disquisizione sulle pari opportunità Un'iniziativa importantissima di cui sono profondamente grata a tutta l'università di Urbino a partire dal magnifico rettore non solo per l'accoglienza ma per il coraggio anche di portare un tema così prioritario per l'agenda del nostro paese quale le pari opportunità Serve un impegno della collettività tutta intera, delle comunità ma serve un impegno dei luoghi come di ricerca, di educazione, di formazione quali sono le università Dobbiamo partire da un approccio culturale educativo che rimuova quegli stereotipi obsoleti, inadeguati che in qualche modo vendono le donne escluse da alcuni processi di apprendimento penso al mondo scientifico oppure dall'esercizio dei ruoli di leadership Noi siamo un paese che ha una costituzione tra le più avanzate nell'ambito della promozione delle pari opportunità le 21 madri costituenti hanno davvero fatto la differenza per la nostra democrazia e quindi è il nostro dovere oggi ridisegnare questo percorso È stato un piacere avere la Ministra Bonetti perché appunto come ho detto rappresenta in questo momento una persona che si sta impegnando a risolvere questo tema sia delle disuguaglianze di genere, problemi della famiglia ma anche e soprattutto questo tema della violenza contro le donne mi sembra che nel suo intervento sia stata molto esplicita nelle linee che sta portando avanti soprattutto come ha detto più volte quello di provare a cambiare le regole che in questo momento rappresentano degli ostacoli alle donne per partecipare in modo attivo in tutti gli organismi di rappresentanza ad esempio sia nel mondo pubblico e anche nel mondo privato le differenze sono in qualche modo un valore che va cercato di far emergere che va cercato di far emergere quindi penso che appunto dovremmo tutti impegnarci nel fare sì che le differenze non siano un ostacolo ma un valore aggiunto io credo che i pregiudizi legati a presunte attitudini delle donne in un senso o nell'altro sono un fatto culturale e dicevo nel mio intervento a volte inconsapevolmente culturale e su questo evidentemente il percorso deve partire dalle giovani generazioni forse parte proprio da noi donne come madri dei maschi e poi parte nelle scuole, come dire, in uno sviluppo delle facoltà cognitive di entrambi i generi in maniera inclusiva e poi parte anche, secondo me, segue nel corso della crescita deve diventare nelle donne adulte consapevoletta della propria autonomia consapevoletta della propria libertà, consapevoletta del proprio talento Ed ora parliamo di scuola perché la provincia di Pesaro Urbino ha effettuato sopralluoghi nelle sedi del liceo Mamiani nel campus scolastico di Pesaro e dell'ITIS di Urbino dopo aver avuto delle segnalazioni riguardanti carenze di riscaldamento Secondo il dirigente del servizio di edilizia scolastica Maurizio Bartoli i riscaldamenti risultano effettivamente insufficienti a causa della recente rimodulazione delle aule fatte per rispettare le normative anti-covid e garantire il distanziamento fra studenti È stato dunque predisposto un progetto di adeguamento da realizzare durante le festività natalizie Nel frattempo saranno aumentate le ore di riscaldamento per raggiungere temperature idonee allo svolgimento dell'attività scolastica E continuiamo a parlare di scuola perché questo scorso weekend l'Istituto Bancario Riviera Banca ha premiato al Teatro della Regina di Cattolica gli studenti più meritevoli del 2021 per quanto riguarda scuole medie, superiori e università delle province di Pesaro Urbino, Rimini e Forlì Cesena Un'iniziativa, quella delle borse di studio Paolucci tornata quest'anno in presenza che potrete vedere poi in uno speciale tv che andrà in onda appunto domani alle ore 20 e 10 Intanto però vi mostriamo alcune anticipazioni in queste interviste di Marco Cadeddu Direttore, si celebra quest'anno la sedicesima edizione della borsa di studio Guido Paolucci nonché la quattordicesima del premio Giovani Talenti si ritorna in presenza un motivo sicuramente di soddisfazione per la vostra azienda che è sponsor principale di questa iniziativa Assolutamente sì siamo davvero molto contenti di poter rivedere i volti dei ragazzi durante questa manifestazione l'anno scorso è stato complicato ma comunque abbiamo mantenuto assolutamente comunque abbiamo mantenuto anche la quindicesima edizione è un momento di gioia è un momento in cui Riviera Banca davvero afferma in maniera importante quella che è la sua mission quella che è la sua vocazione oggi qui ci sono un centinaio di ragazzi impegnati e bravi che sono risultati migliori nel loro percorso scolastico e quindi una banca di credito cooperativo non può, come la nostra non può non essere vicino ai giovani perché sono il nostro futuro ma per loro il futuro è anche oggi quindi l'impegno che mettono durante l'anno è il riconoscimento che la nostra banca mi sembra doveroso che la nostra banca fa appunto mi sembra doveroso anche perché Riviera Banca affianca la sua tradizionale attività bancaria un'attività sociale, culturale di prevenzione e cura della salute di valorizzazione appunto dei giovani di sostegno al territorio è un evento importante è una manifestazione importante prima di tutto perché ricorda il professore Guido Paolucci che è stato un medico un professore in oncologia pediatrica quindi ha dato diciamo così la sua vita per gli altri e credo che sia questa una cosa molto importante dall'altra parte si premiano i ragazzi i ragazzi che hanno svolto un percorso di studio a livello di scuola superiore e a livello anche universitario quindi credo che anche questo sia un messaggio importante che è quello appunto che abbiamo bisogno di persone che si impegnano di persone che studiano di persone che abbiano che raggiungano dei livelli importanti per la nostra società e terzo ultimo ma non da ultimo la banca la riviera banca che è sempre molto attenta in questi settori che è quello appunto dell'istruzione delle giovani generazioni fa tanto anche nel sociale e nella cultura e di questo noi ne siamo profondamente grati quindi ringrazio di cuore il presidente Fausto Caldari e tutto il consiglio di amministrazione Arianna come impiegherai questa borsa di studio che Rivela Bianca ti ha concesso? Penso che la impiegherò per iniziare questo nuovo futuro da adulta e questa nuova vita comunque autonoma rispetto anche alla mia famiglia e spero anche di proseguire comunque lo studio in questo ambito ora che sono specializzata sempre in pediatria e sempre nello stesso ospedale in cui ho condotto la tesi e siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni l'invito è sempre quello di segnalarci tramite whatsapp attraverso il nostro numero che vedete in sovraimpressione le cose che non funzionano nel vostro territorio nelle scorse settimane ci siamo occupati di una storia di presunti diritti al parcheggio attraverso proprio una segnalazione arrivata a Rossini TV da parte di alcuni residenti di via Severini proprio nel centro storico di Pesaro ora alle nostre telecamere è arrivata la risposta dell'amministrazione comunale vediamo due settimane fa Rossini TV ha acceso le telecamere su una segnalazione di alcuni residenti del centro storico rivoltisi alla nostra emittente in particolare si tratta del civico 13 di via Severini un'abitazione con nove appartamenti sovrastanti la struttura della biblioteca San Giovanni qui sono presenti una quindicina di posti auto che anni fa erano delimitati da un cancello e da una sbarra poi rimossi che hanno modificato un'area di sosta di pertinenza della struttura in un parcheggio libero e spesso selvaggio a un tempo c'era un cancello poi a seguito della richiesta di alcuni vicini è stata data la possibilità con una delibera di giunta della vecchia giunta di parcheggiare a tutto praticamente tutto il vicinato chi ha il permesso della ZTL e quindi qui è diventato un parcheggio selvaggio dobbiamo tener conto che qui abitano delle persone alcune anziane alcune con delle patologie e anche con l'handicap e quindi avrebbero bisogno di avere almeno un parcheggio per sé visto che siamo abitiamo sopra questo cortile che è di pertinenza di questo edificio per cui chiediamo semplicemente che venga riservata alcuni posti per i condomini e poi il comune potrà fare del resto del parcheggio quello che crede ecco il comune di Pesaro attraverso l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha respinto la richiesta dei residenti con queste motivazioni io devo dire che sono stati fortunati fino adesso nel senso che quella è un'area totalmente pubblica quindi un'area comunale e nessuno ha il diritto di parcheggiare più di un altro nel senso che è un parcheggio a disposizione dei residenti del centro storico quindi un parcheggio all'interno della ZTL e tutti i residenti della ZTL hanno il diritto di parcheggiare in quell'area lì se prima c'era un cancello ed è stato rimosso è stato rimosso tardi doveva essere rimosso prima forse se ci sono disabili o persone che hanno problemi motori comunque vengono garantiti i posti gialli non mi piace sentire una protesta che vuole sfruttare le persone malate o i disabili i disabili che hanno la patente hanno diritto ad avere il posto auto ce l'hanno quella è un'area totalmente ripeto totalmente pubblica e a disposizione e libera di tutti se i privati volessero in qualche modo avere un diritto rispetto agli altri dovrebbero avviare una procedura con il patrimonio e chiedere l'acquisizione dell'area quindi uno può pensare anche di comprare dei posti auto a patto che l'amministrazione sia disposta a venderla altrimenti tutti vorrebbero sotto casa propria dei posti riservati per i residenti io abito in via Rossi e i parcheggi non sono facilissimi bisogna ogni sera fare qualche metro per parcheggiare farebbe comodo anche quelli che abitano nel mio palazzo pensare che i posti davanti siano riservati ai residenti del condominio da domani primo dicembre ottenere lo speed a Pesaro sarà più veloce ed economico grazie al nuovo servizio proposto dal comune di Pesaro che è tra i primi 30 in Italia in grado di autenticare l'identità digitale in modo veloce e a costo zero per procedere con la verifica dell'identità personale i cittadini dovranno prenotare un appuntamento nei due sportelli del comune che offrono proprio questo servizio l'informa ai servizi di Piazza del Popolo oppure l'ufficio anagrafe di Largo Mamiani novità nell'organigramma del Rossini Opera Festival il tenore peruviano Juan Diego Flores e il nuovo direttore artistico del ROF lo ha nominato oggi il consiglio di amministrazione della manifestazione su indicazione del sovrintendente Ernesto Palassio l'artista che è uno dei maggiori cantanti lirici della scena internazionale coaudiverà il sovrintendente nell'ideazione dei programmi futuri del festival contestualmente è stato anche conferito l'incarico di direttore generale per il triennio 2022-2024 a Cristian della Chiara già responsabile marketing e relazioni istituzionali della manifestazione entrambi entreranno in carica il primo gennaio è in arrivo un altro grande appuntamento teatrale allo sperimentale di Pesaro il 12 gennaio comune Amat ospiteranno infatti Valerio Lundini personaggio noto per le sue irriverenti interviste su Rai 2 del format una pezza di Lundini l'artista arriverà a Pesaro dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo allo sperimentale proporrà il nuovo show il Mansplaining spiegato a mia figlia i biglietti al costo di 35 euro saranno in vendita da domani mattina alle ore 10 su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito Viva Ticket e continuiamo con le segnalazioni perché in seguito proprio alla segnalazione di un cittadino tavulliese alla sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle marche il comune di Tavuglia ha deciso di rimuovere precauzionalmente lo striscione appeso alle mura di cinta del borgo che rendeva omaggio a Valentino Rossi il gesto però ha creato diverse polemiche da parte dei tifosi ma la sindaca Francesca Paolucci riferisce attraverso un comunicato di auspicare che si possa giungere presto ad una soluzione condivisa con i tecnici della sovrintendenza volta a tutelare sia il sito medievale sia Valentino che è l'elemento più identitario di Tavuglia che rende un comune di 8.000 persone conosciuto in tutto il mondo si chiama tutti i campioni il convegno che Lions Club Pesaro della Rovere e Leo Club Pesaro organizzano per venerdì 3 dicembre alle ore 17 all'hotel Excelsior di Pesaro un appuntamento all'insegna di grandi storie di sport che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Rossini TV Tutti i campioni storie e percorsi verso la straordinarietà e questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 17 all'hotel Excelsior di Pesaro ad apparecchiare l'appuntamento il Lions Club Pesaro della Rovere e il Leo Club di Pesaro che ospiteranno i racconti delle straordinarie storie di tre sportivi d'eccezione quali sono ultramaratoneti capaci di imprese prodigiose i 100 posti nella sala dell'Excelsior sono praticamente già sold out ma il convegno sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di Rossini TV partner dell'iniziativa per noi lo sport è molto importante in quanto appunto si inserisce proprio tra i pilastri dell'etica lionistica è uno stimolo soprattutto per i giovani infatti questo diciamo evento è condiviso con i giovani Leo il convegno promosso da Stefano Sanchioni insignito di una delle massime onorificenze lionistiche come il riconoscimento Melvin Jones gode del patrocino del comune di Pesaro delle sponsorizzazioni di Euroterm e Unicam e accenderà i riflettori sulle storie degli ultramaratoneti vincitori di competizioni internazionali come Marco Olmo Paolo Barghini e il pesarese Davide Vitali trionfatore alla recente Ultra Race in Romania relatori del convegno anche il biologo nutrizionista Steven Tamburo che si concentrerà sui valori della corretta alimentazione e Cristina Piccinotti giornalista sportivo esperta internazionale di running fra gli obiettivi del convegno quello di trovare nel racconto di grandi imprese uno stimolo ad un'attività sportiva che deve essere alla portata di tutti abbiamo preso come occasione questa vincita questa vittoria di quest'estate in ultramaratona è importante non capita tutti i giorni e non capita a tutti siccome sono di pesaro abbiamo pensato di portare un messaggio positivo che è quello che avevo in mente da tanti anni ovvero si può fare attività sportiva a ogni età anche se uno ha più di 50 anni io ne ho 55 e anche alimentandosi bene questo può far bene alla mente e al fisico quindi facciamo attività sportiva è una cosa utile e magari con l'occasione di questo evento racconteremo un po' di storie anche perché le ultramaratone sono sempre gare ma sono anche avventure e capita di tutto e continuiamo a parlare di eventi natalizi nella nostra provincia tanti appuntamenti come avete visto sono partiti lo scorso fine settimana altri invece stanno per partire come il Natale di Gabicce con 16 date tra concerti spettacoli incontri culturali e scambi di doni sotto l'albero sarà un Natale all'insegna del cuore il nostro come ci spiegherà la nostra designer grafica Laura D'Amico vedono tante iniziative in particolar modo due eventi più importanti di questa rassegna natalizia si inizia il 16 dicembre con la petite messe solenne di Rossini che sarà interpretata dal coro lirico di Sant'Ermete e poi il 20 dicembre al Cinemastra un bellissimo spettacolo di Enrico Loverso che è un attore cinematografico e teatrale di fama nazionale che interpreterà uno nessuno centomila di Pirandello concludo ringraziando un po' tutti quelli che sono gli sponsor che hanno aiutato che aiutano questa campagna di festività in particolar modo i nostri due miei sponsor sono il gruppo SGR Riviera Banca a cui sono aggiunti anche gli importanti contributi di Meteosat Pizzagalli Infissi Ghibol di Marco Boghi Leonardo SRL e Bastianelli Enrico quest'anno siamo veramente contenti pieni di gioia di poter tornare nelle piazze nelle strade a fare quello che abbiamo sempre fatto ovvero organizzare iniziative e eventi di intrattenimento per tutti i nostri ospiti e ci sono diverse iniziative che si svolgeranno durante tutti i fine settimana e quindi cominciamo dal primo fine settimana dal 4 al 5 dove ci saranno dei mercatini natalizi accompagnati anche da un mercatino solidale e in questa occasione in particolare il 4 è prevista l'inaugurazione con l'accensione delle luminarie e ci sarà un concerto della Gabice Glamour Orchestra che è la nostra orchestra di giovani riconosciuta anche a livello di consiglio comunale proprio battezzata la nostra orchestra del territorio che accompagnerà quindi l'inaugurazione poi seguiranno tantissimi eventi l'otto ci sarà l'iniziativa Babbo Natale viene dal mare quindi Babbo Natale e Gabice arriva su una barca arriverà direttamente dal mare e si fermerà al nostro centro per le famiglie dove raccoglierà tutte le lettere dei bambini lettere che il pomeriggio del 5 potranno essere costruite insieme a un'associazione di Gabice Mare che si è messa a disposizione corporeamente per aiutare i bambini a fare la loro letterina andando quindi via via durante tutto il fine settimana accompagnando quindi tutti i weekend con delle attività che coinvolgeranno Piazza Municipio Piazza Matteotti il cuore del paese oltre alla Piazza Valbruna di Gabice Monte dove andremo ad attendere il 26 di dicembre il 6 gennaio il presepe vivente l'arrivo della Befana il 6 gennaio e insomma tutti questi appuntamenti il cuore in realtà rappresenta l'amore che c'è non solo per i cittadini e tra di noi tra le persone che abitano a questo luogo ma l'amore soprattutto per il territorio il territorio che secondo noi è sempre da celebrare infatti notiamo sempre all'interno le icone che rappresentano il city brand di Gabice Mare con le ginestre la riviera che si vede da Gabice Monte l'orizzonte questi sono gli elementi che quest'anno vogliamo donare non solo alle persone che abitano qui ma anche ai territori limitrofi come se fosse un dono d'amore verso gli altri questo Natale per noi è un augurio di cuore e allora complimenti all'amministrazione comunale di Gabice per tutte queste belle iniziative natalizie noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma prima vi vado a informare sulla programmazione di questa sera su Rossini TV infatti alle 20.10 ci sarà un interessante convegno organizzato da Confcommercio Marche Nord sulla ristorazione sull'agroalimentare le infrastrutture e il turismo una rete per valorizzare le marche mentre in prima serata alle 21.20 così come tutti martedì una nuova puntata di Master Fish il pesce va in onda questa sera la sfida avverrà al ristorante La Baita e se lo volete vedere in replica vi ricordiamo anche che potete vedere questa stessa puntata anche i giorni a seguire e invece domani torna così come tutti i mercoledì Green Tour questa volta andiamo a Cantiano un bellissimo racconto di questo comune nella nostra bellissima provincia di Pesaro Urbino un racconto fatto di storia e di enogastronomia che troverete domani alle 21.20 su Rossini TV Ho detto davvero tutto grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia vi consigliamo sempre di mettere like sulla nostra pagina Facebook oppure di seguire il nostro profilo Instagram per essere aggiornati su tutta la programmazione di Rossini TV buona serata grazie a tutti